Ero spaventata l'idea di progettare la mia casa, ma grazie al supporto e alla professionalità di cicalesi interni mi sono ricreduta. Saranno aperti a partire da lunedì 23 agosto i termini per la presentazione delle stanze relativi al contributo regionale Buoni Libro per l'anno scolastico 2021-2022. I destinatari dell'intervento sono gli alunni frequentanti le scuole medie e gli istituti superiori con sede sul territorio comunale della città di Cava dei Tirreni, appartenenti a famiglie che presentano un valore dell'ISE 2021 in corso di validità con scadenza gennaio 2022 rientrante nella fascia 1, ossia ISE da 0 a 10.633 euro e fascia 2 da 10.633 euro fino a 13.300 euro. Nello specifico, dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla fascia 1, le risorse residue, se disponibili, saranno destinate anche alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISE rientrante nella seconda fascia di reddito. L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente online utilizzando l'apposito link Buono Libro disponibile sulla home page del sito istituzionale del Comune, per accedere all'apposita pagina del portale che sarà attiva entro il 23 agosto e attenendosi alle istruzioni per la corretta compilazione. La richiesta può essere inoltrata dal genitore o da altro soggetto che rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne. Da Palazzo di Città hanno fatto sapere inoltre che il Comune di Cava dei Tirreni per l'anno scolastico 2021-2022 adotterà il sistema automatizzato Coupon Book per la gestione in forma digitale delle cedole librarie in favore degli alunni della scuola primaria statale autonoma. Le cedole librarie saranno rese disponibili direttamente ai genitori previo registrazione da effettuare a partire dal 23 agosto e fino al 2 ottobre sulla piattaforma Coupon Book nell'apposita sezione Cedole librarie digitali e scuola primaria. Così ad avvenuta registrazione presso la libreria prescelta abilitata alla piattaforma Coupon Book i genitori avranno la possibilità di prenotare i libri di test consegnando il codice di cedola libraria virtuale ricevuto dal sistema.